Intro Hi people of YouTube Welcome back to an episode of Centro 4 A parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati le scorse puntate con la liberazione di Matt E con io che mi sono fatto un bel po' di missioni In teoria avrei dovuto mettere via un po' di soldi Ma ho usato la maggior parte di tutti quei soldi per potenziarmi tutte le Quasi tutte le armi Ma soprattutto per potenziare noi stessi E ho scoperto che la cosa del perdere i vestiti è un bug Purtroppo noto a tutti quelli che hanno rigiocato la versione reelected di Centro 4 E ad oggi non hanno pensato a una cazzo di soluzione? Com'è possibile? Su PS3 questa cosa non esisteva Partiamo da questo presupposto Comunque l'incarico di oggi è Lealtà Nightfall Super amico Matt Miller Incontra Matt Miller E dove è il posto più vicino? Di qua Quasi quasi cracco anche questo negozio Quanti me ne mancano da craccare? Solo quello? No mi manca anche questo qui che è sconosciuto Anche questo ok Ehi eh Ho quasi finito tutti i negozi eh Mica male Sentiamo Matt cosa dice Ok Ok Si come no? Ottimo Prendiamo i soldi intanto E cracchiamo questo negozio Sono sempre soldi in più eh Ah cavolo avessimo avuto un po' di soldi in più Prendeva anche questo Fa niente Ed ecco fatto Ci mancano solo due negozi Guarda caso incontriamo Matt Nell'ultimo posto In cui è stato prima di scomparire del tutto Dov'è la statua? Eccola qui Tutta nascosta eh Eccoci qua Matt Mi chiedo già chi sia questo grande vigilante Matt Certo Certo Matt Ah the three count With the one arm bandit Sometimes literally one arm bandit The The closest slots in steelport E quindi Superpowers like yours don't exist in this universe So You won't be able to use The simulation Better be killer Matt Ok Here comes trouble Hang on mate Ah esatto Sono vampiri Sì sono vampiri Sì sono zombie Intanto Mi rubo Un po' di soldi Zinyak Now whose army did you say this was His true nature is known only to a secret cabala Well Ah This is better not be nightblade fan Please Please Not one of those Forum stalking Hacks Who spit out poorly constructed Badly edited Wish for film And brimming with cannon breaking Mary Susan Ecco fatto So you do read that stuff Of course I've read it Beh alla fine Nelle fanfiction C'è sempre qualcosa di divertente A modo loro Eh Mi fai pena Io intanto le ammazzo a coltellate di Johnny No No Ma meglio così Guarda Aspetta Eh ma basta anche Una mazzata per farli fuori Spacco la faccia a tutti ora Tra l'altro non vedo l'ora di avere Una determinata arma melee Che ancora non abbiamo sbloccato eh Uh nightblade Specialmente tu Ahah Oh my god Oh my god Oh santo dio Matt A modo tuo ti si vuole comunque bene Dai Dai Andiamo a incontrare Nightblade Nightblade Dove sei? Eccolo qua Ok Ovviamente Va bene dai Andiamo a prendere il cardinale Noi sulla macchinina E nightblade Sulla bella Motoretta Motoretta Su Matt Sali Matt Muoviti Ci siamo Nightblade Alla battaglia Supero Nightblade Sei lento Inchia Inchia Eh certo Si sa come mai Che peccato Che in realtà poi non ha detto che peccato Ma ha detto mi dispiace amico Qualcosa del genere Questa macchina che è appena partita con noi Oh scusami Minchia che male Questa Ciprian order Not the world's biggest nightblade The Cyprian order are a sect of brave soldiers Waging a clandestine war against the creatures of the night Frankly not It was a member of the order until he succumbed to the dark embrace And was turned into one such creature A vampire Now the order is trying to kill their former member That's right So nightblade fights vampires And he fights the Cyprian order Correct That sounds like bloody nonsense The fun nonsense It's a dramatic work that's exemplary of the four Ah guarda I didn't free you so you can play games mate It's based on a training simulation that Arsha rejects Ahah 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 Beh Beh Allora non vedo l'ora di rincontrarla Ahah 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 Sì però muoviti Josh Wow Wow Che fra- Sì che poesia un paio di palle Che frase Talmente banale I can't believe I have to work a double shift Why are we here? Excuse me, Nightblade I thought we had to lure the Cardinal out first I enjoyed your story No No Uh-huh Nightblade 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 che si incazza Nightblade che si incazza E guarda caso io non ho i poteri per combatterlo Oh Calmo Ah Tranquillo che tra poco te lo faccio davvero colpirti al cuore Occhio, occhio No 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 Tranquillo che ci combatto io mentre lo colpisco coltellata in faccia Non accettano mai le critiche Non accettano mai le critiche Povero Josh L'ho... L'ho... L'ho colpito coltellata in faccia, poveraggio Certo, puoi essere quello che vuoi in questa simulazione, Matt Certo che capisco È il tuo momento Ehi Grazie di avermi protetto Oh Che cosa carina Sei il nuovo Nightblade tu Sei Nightfall Quanti dollari? 2.000 Potevi sprecarti un po' di più Superamico Matt Miller Non male eh E questo è solo il primo dei nostri superamici La domanda è Chi sarà il prossimo? Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Solite dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti